5.000 euro è quanto dovrà sborsare il parapendista slovacco atterrato nelle scorse ore su un tetto di una casa a borso del grappa. L'atterraggio di emergenza alla fine si è rivelato meno complicato del previsto e lui ne è uscito con qualche piccola escoriazione ma, errore fatale, si è dimenticato di avvisare il centro di soccorso. Bastava una chiamata per dire che andava tutto bene, non l'ha fatta. I residenti, vedendo la scena, hanno avvisato immediatamente il 118 che ha mandato l'elicottero. L'amante del volo libero che si è rifiutato di farsi medicare per questa dimenticanza si troverà a sborsare una cifra considerevole.